Ragazzi se avete bisogno di crediti passate da igvolt.com il sito con la consegna più veloce al mondo e con il codice lazza avrete il 6% di sconto Si stanno avvicinando i top Buon buon ragazzi sono Henry Lazz e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui tornati come tutti i giovedì con i player pick assieme a Om Ciao ragazzi E a Tatino Bella rima Ragazzi prevedo già che in questo video attaccherò due player pick di due settimane differenti Perché appunto questa settimana corrente c'è una squadra settimana veramente brutta esatto Ve la faccio subito vedere Cioè in verità gli over sono anche alti però non c'è nessun giocatore che spicca veramente C'è un robertson87 che forse potrebbe costare qualcosa Favamo vedere sì Sta d'intorno ai 300k Poi c'è Paulsen Iagaspas Zappata Beh insomma sono vari qui giocatori alti di over che però non valgono niente Prima iniziale però ragazzi vi ricordo come sempre di passare in iscrizione dal suo soldi di show codice razza 15% di sconto Ed inoltre per i vostri crediti passate da igvolt.com codice razza 6% di sconto Detto questo ragazzi io direi che possiamo iniziare Partiamo regata di Rhyweiss Ah giustamente ho fatto oro 2 Sestimano andiamo a prendere i mega 4 non scambiabili Vai dati apri il primo vai Primo pacco mega Tutti mega sono Sì tutti i mega 35.000 crediti Sì sì no mega come te Vaga apri l'ultimo E saranno una mega shit Secondo me Vediamo un po Non è walk out Quando mai Ti saresti un ultimate Un ultimate Un 155 Questo cazzo è forte Eh sì 79 di over Il bello E' una bestia Sua carriera Vai al prossimo pac Tutto tuo Mi sento che è una grande shit Anche questa è una grande mega Una grande mega Merda Megasciita Olli Amico la lavagna E' la lavagna Bravo Tedesco Portiere Bauman Capo Baud Probabilmente un applauso a Bauman Non dareà che c'è uscito Per l'ultimo pack Toccare a questa volta ragazzi E secondo me esce una lavagna E dopo E dopo facciamo tipo assieme Ok Oddio Ok lavagna L'ho presa ragazzi Adì William Oddio William il Cersi 84 Costa ancora 30.000 credit Come inizio gioco Eh sì No vabbè Devo scartare anche William E anche Romagnoli Ragazzi video 3 1 2 3 Non sono andata la mano Questi altro che E' la potenza del pack E' però neanche vuoi E' Vediamo Eh sì Sembrava bianca bianca Spagnolo Poftieve Adan Abbiamo Antone Flora Tipo Deci In grande No 83 E questo è buono Fragico Buono Overpass Già 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 Di Pic Ragazzi Torniamo indietro Devo fare una cosa Prima Di più da 4 1 Oro Rari 2 Pac Mag S5 Da Crediti Ragazzi E' S5 E' Fara Una cosa Sottrimenti Mi dimentico E' Riscattare Ragazzi Il player Pic Io sono un egoista Quindi Dei avrò Di Ok E' La parte Più Bale Già E' Comunque Avevo Detto Che Non Abbiamo Detto Prima C'è Midi Picciare C'è Anche Di Buono Che Non Userei Mai Ne Magari In qualche Sb Si Lo Butto Dentro Ragazzi Robertson L'abbiamo Trovato C'è Buono Ed ora Tocca A voi Aprire I pack Speciali Anzi Sono tre Sono tre Io Prendete Non 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 Ronaldo Marcello Marcello Lo Sapevo Io Devo Solo Darti Grande Rom Marcellino Marcellino Tanto Vane Vino E Quanto Gli Marcello Oggi Non Lo Sare Ieri Lo Sapevi Forse 70 K Molto Ragico Pure Questo Magari Poi Lo Vendo Tocca A Vai Pacchetto Mega Mega Pacchetto Raro 55 Non E Walkout Però E Almeno Una Lavagna Ok Lavagna C'è Meggio Dici Campania Company 85 Stanno droppando Oggi pomeriggio Poveriggio Quindi Non fare il video Alle due Metterlo Stiamo Dopo Vabbè Oh Vabbè 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 55 5500 Crediti Marcano Della Roma Marcano Qui ragazzi Ci vediamo Tra pochissimo Per voi Per noi Tra una settimana Con i nuovi Pic Una casa Diversa Anche Ok ragazzi Eccoci qui Siamo due settimane Dopo Dell'ultima Clip Che avete visto Appunto Sono a casa mia Non perché Mi sono trasferito Di nuovo a casa Ma perché Appunto Per le feste di Pasqua Sono rientrato Comunque ragazzi Ci troviamo subito Sulla schermata Dei premi Appunto Del foot champions Questa settimana Abbiamo fatto Euro 3 Perché appunto Io sono risalito Anche questo weekend A casa Appunto La play ce l'avevo A Napoli Quindi non ho la possibilità Di giocare Comunque Euro 3 C'erano due pick Da 3 Due pack mega Un pacchetto di giocatori rari E 30k Quindi ragazzi Direi subito Di appunto Andare a riscattare I pick Avete visto Che ho trovato Robertson Due settimane fa Settimana scorsa Ragazzi Facendo Euro 3 Sempre Ho trovato Ardi Quindi niente male I pick di Euro 3 Stanno droppando bene Quindi ragazzi Andiamo a prenderci Raffa Mentre qui a destra Non vi fate neanche Credere la squadra Settimana Comunque c'è De Bruyne C'è Cullibaly 92 E qui ragazzi Vado a prendermi Non so se Galli Oppure Char Vado di valutazione Vai Vado a prendermi Char 86 Ovviamente Non potevo aspettarmi Niente di che Comunque Abbiamo un casino Di pacchi 12 pacchetti Vi vado a far vedere Ragazzi Anche la squadra Della settimana Quindi ragazzi C'è Pepe Reina Che ci ha salvato Il culetto contro Lazio Abbiamo Cullibaly 92 Del Napoli Abbiamo Comun 86 Che questa carta È interessante Se ci troviamo Il centro campo Belga De Bruyne E Rajan E poi Pepe Nella sua Ennesima versione If Però ragazzi Prima volevo mostrarvi La nuova squadra Che mi sono fatto La partiamo dalla porta Ci abbiamo Ugo Ioris Che ce l'avevo Anche prima Quindi non è cambiato nulla Andando avanti ragazzi Con la direzione destra Abbiamo Joe Cancel Nella sua versione Sif Pagato 174.000 crediti Walker Difensore centrale Nella versione Footbird Che è una besta Come carta Valdico 45 Non upgrade Roberts Che appunto L'ho trovato Nella clip precedente Cristiano Ronaldo Ragazzi Finalmente sono riuscito A comprarmi Cristiano Ronaldo In squadra E quindi lo posso provare In questo FIFA A fine gioco Lo provo Però comunque Ragazzi non è mai troppo tardi Per provare Ronaldo Cante ovviamente Irrimovibile da questa squadra Pogbao 88 Irrimovibile anche lui Dalla squadra COC Ci abbiamo Larson Che in verità Vorrei cambiare ragazzi Infatti poi faccio vedere la squadra E ditemi come potrei sostituirlo Con un milione di crediti La grass costa Sempre Foodbird Come ATT E Gabriel Jesus Carnival Quindi ragazzi Questa qui è la squadra Ditemi come cambiare appunto Questo Larson qui Perché non mi piace veramente Come C.O.C C'ho il budget Circa un milione Cinquecento mila crediti Fate voi Che tra l'altro Ero andato a comprare Di bala Solo che poi L'ho cambiato Perché non è piaciuto Detto questo ragazzi Vado subitissimo Ad aprirmi Tutti questi pack mega Qui c'è tipo Ne ho un fottio Di pack mega Da 35 mila crediti Però prima partiamo Dall'oro premio maxi Anzi giocatori Ero premio maxi Vediamo se ci droppa qualcosa No nada Brasiliano CC Napoli all'anno 84 Eccolo qui Upgrade Lasciamoci dopo Quella da 50 mila Andiamo con quelli Da 35 mila crediti E basta Tante volte magari Qualche Oh wake out Lo stavo dicendo ragazzi Wake out Ok oro normale Oh black No Andanovic Andanovic 89 88 Scusate 88 Ci sta come Walk out Che fai Obuti Vandanovic Ce lo tagliamo Assolutamente Al club Vai altro padre 10 mila crediti Oh ancora Back to back Ti prego Dammi qualcosa di buono Un haico Oi De Bruyne Argentino De ATT Chi è No Funesmory 84 Non ci credo Dai Che cazzo Funesmory Ragazzi C'era De Bruyne C'era Nainggolan Potevo darmeli così Easy Veramente Back to back To back Vediamo se arriva Incredibilmente No non arriva questa volta La IA si è calmata Di darmi Pack buoni Per un'altra Lavagna italiano portiere Ci abbiamo Per in Mancano 8 pacchetti Altro pagato 35 mila crediti E walk out Ancora ragazzi Incredibile Ma dammela Stai con Dammelo sto If buono Spagnolo Ci uccida In Silva Eh vabbè Madonna Sempre lì Walk out Scrausi Deve darmi E andanovic C'è David Silva E funes morila Che cavolo era Ipo 84 Camoie sports Tanto ci dà anche L'85 Carvagiallo Dentro Altro pezzo Lavagna Lavagnozza 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 Camoie sports Ok Lavagnozza C'è la data Oh Williams No William safe Aduriz 83 Please Give me something good Lavagna Francese C.O.C Fekir 85 Ragazzi E' buono questo E' buono Ce li danno Per l'SBC Dei Toz Questi qua Sono tutti buoni Per l'SBC Dei Toz Lo sanno Ci stanno già preparando Il futuro Oh Lavagna Incredibile ragazzi Non è anche commentato Il pack T.T. Italiano Mario Balottelli 83 Mario Vai con l'ultimo Mega 35 mila No Niente Vediamo cosa ci può dare Ok Neanche Lavagna Quindi skipiamo Non voglio neanche vedere Chi mi ha dato E l'ultimo Paga da 50 mila crediti Scommetto che non mi dai Neanche il workout qui Perché mi hai dato I suoi precedenti Ovviamente ragazzi Ormai so come funzionare Gli esports Almeno la Lavagna Ce l'ha lasciata La dignità di darci La difensione centrale A Cervi Quindi ragazzi Questo video di cui Io spero vi sia piaciuto Il prima comando ragazzi Un bel pollicione in su Fatemi sapere nei commenti Cosa avete trovato voi Nei premi di questa settimana Fatemi sapere appunto Chi mette la C.O.C Al posto di Larson Passate dai G.Vol Per i vostri crediti Lo so se ti riusciamo Per la media da calcio Quindi ragazzi Attivate la pallina Iscrivetevi al canale Sono la fatta Quindi ragazzi Quinta E ragazzi Tutto Bella